Pietra Antonio cerca spazio per il cross, lo trova, palla sul secondo palla, intervenuto Marrancone schiacciando di testa ma non trovando la porta Atene in campo Forcini e poi si accentra, vede il movimento di Belloni, gran palla, Belloni al volo, riesce a calciare Zappala blocca, bello al lancio di Forcini, bella anche la coordinazione di Nicola Sbelli Cross in aria, Zappala indeciso, Diem ma riesce a lontanare in due tempi, poi ci prova Pietra Antonio con il sinistro alto, indecisione di Zappala che stava per ingannare anche Diem ma per Pietra Antonio calcia sopra la traversa, Grossi dice a Jürgens di salire per giocare su Diem ma che prova a ingannare per Camilli che passa davanti a Formiconi, Camilli che poi prova il gol spettacolare, colpisce però male con il destro per De Marco che tocca, per Sabi, va via Sabi in aria di rigore, la mette bassa l'anticipo sul primo palo, sul fondo Panaioli è riuscito, forse non era quello effettivamente in programma di schema però stava per trovare il gol, ripartenza Camilli bella la palla filtrante, è scattato De Marco in aria di rigore De Marco davanti al portiere De Marco, alza troppo il suo destro davanti a Curtosi altra grande occasione per Lativoli in pochi minuti si fa incontro Scipioni che controlla e c'è ancora numero due di nuovo Scipioni, palla morbida, Ruiz interviene poi conclusione di Tringali che vede all'ultimo Zappalà che si allunga ancora in calcio d'angolo cerca l'inserimento di Pellegrini, colpe di testa di Pietro Antonio Camilli per l'arrivo di De Marco in aria, De Marco finisce giù, calcio di rigore in favore della Tivoli calcio di rigore fischia Ismail De Marco calcio alto alza troppo il suo destro e si rimane 0 a 0 pallone messo dentro, prova Scipioni, attaccare il primo palo la girata, non trova però il specchio di prima, non passa il tentativo di Tringali Vestenicchi, primo pallone per Vestenicchi che prova a passare, prova subito a calciare in porta, trova la parata di Pirtosi, ma subito si presenta alla Tivoli, Vestenicchi pronto i grossi dalla bagliorina palla dentro, suo primo palo, prova Panaglioli complicata la deviazione, qui il pollo pronto il destro di Tringali morbido ancora su Pietrantonio che controlla e poi calcia con il sinistro palla alta, ancora lo spiega favorito Pietrantonio che questa volta la competizione è arrivata con dei passi Camilli fischia Ismail Camilli sopra la barriera non l'ha calciata male, ma non ha trovato la porta Vestenicchi cerca spazio palla per il destro di Camilli Camilli Massimo Camilli con il terzo gol del suo campionato avanti la Tivoli e poi la fa filtrare, bella palla per Scipioni Scipioni in aria, sul sinistro Scipioni, Zappalà con la manona a dire di no poi occasione per Campestre sul fondo la mano di Zappalà sul sinistro di Scipioni punizione per Montesi pallone verso Cruz che lavora di sponda Camilli accomoda Vestenicchi di sinistro prova a calciare in porta trova la parata in due tempi fa la prolungata verso Cruz che cerca di andare via Cruz Wilson Cruz dice gioco partita incontro per la Tivoli sulla sponda di Camilli la chiude il 20 la Tivoli la Tivoli torna al successo tra le muramiche dell'olindo Galli 2-0 con i gol negli ultimi minuti di Massimo Camilli e Wilson Cruz